alla fine è stato cacciato allegri messo alla porta dalla juventus dopo aver vinto la finale di coppa italia contro l'atalanta reo di aver commesso quella sceneggiata clamorosa contro l'arbitro maresca contro il quarto uomo contro giuntoli contro rocchi contro tutti allegri contro tutti e soprattutto contro se stesso perché aveva un demone dentro che lo ha liberato allo stadio olimpico era furioso e soprattutto secondo me ce l'aveva anche con i dirigenti della juventus che sapevano già il destino di massimiliano allegri che secondo me non avrebbe continuato la sua permanenza alla juventus nel prossimo campionato la juventus comunica di aver sollevato massimiliano allegri dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile l'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di coppa italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della juventus e con il comportamento che deve tenere chi lo rappresenta si conclude un periodo di collaborazione iniziato nel 2014 ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime tre stagioni insieme con la finale di coppa italia la società augura a massimiliano allegri buona fortuna per i per i suoi progetti futuri vabbè questo si deve dire no questo si deve dire eh ragazzi è stato mandato via allegri non è più l'allenatore della juventus adesso vedranno chi mettere eh al suo posto si vocifera montero però soltanto il tempo potrà dire chi sarà appunto l'allenatore juventino io adesso ti dirò il mio parere voglio il tuo qua sotto nei commenti voglio sapere cosa ne pensi tifoso juventino non tifoso juventino io voglio leggere il tuo messaggio nel corso della serata della mattinata però intanto un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli che vi invita a supportare questo video con un like con un mi piace ti invita anche ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto attiva la campanella delle notifiche e seguimi anche sul mio secondo canale ti lascio qua sotto il link in descrizione è nato da poco aiutami a farlo crescere Caffarelli solo calcio poi se vuoi lasciarmi un messaggio in privato ti do anche il link dei miei profili instagram ragazzi si sapeva che sarebbe andato a finire così perché la juventus era ai ferri corti con allegri parliamoci chiaro non era non era contenta di del suo rendimento anche se l'obiettivo minimo era andare in champions league come si vociferava e vincere la coppa italia però secondo me giunto lì non era innamorato di questo allenatore non è non è nato mai un come dire un legame tra di loro secondo me secondo il mio modesto parere è fate attenzione a quello che sto dicendo è un mio parere giuntoli aveva scelto come allenatore luciano spalletti sarebbe passato un anno e a ad agosto a anzi a luglio sarebbe stato l'allenatore della juventus luciano spalletti perché doveva prendersi questo famoso anno sabbatico anche agli occhi di chi lo sosteneva andare subito alla juventus sarebbe stato un contraccolpo un segno di debolezza no e invece lui faceva passare questo anno e per poi approdare sulla panchina juventina invece così poi non è stato perché è stato chiamato dalla nazionale italiana come eroe è stato l'eroe che è riuscito a superare le problematiche quando è andato via mancini che con un attimo se n'è andato in arabia saudita perché gli è arrivata un'offerta incredibile lui ha detto che non era per quel motivo mancini giustamente che cosa doveva dire invece sappiamo tutti che è soltanto stato è solamente stato un motivo economico e questo l'aveva odorato allegri da buon volpone da buon uomo navigato aveva sapeva già che il suo destino alla juventus non sarebbe durato e quindi motivato dalla sua verve dal suo fuoco è uscito allo scoperto vincendo un trofeo e quindi liberandosi di tutte le sue noie di tutti i suoi rancori di tutte le sue fumanti sensazioni no è come il drago che sputa il fuoco quando non ne ha più e lui è stato così se avete visto certo è ovvio adesso mi faccio serio questi comportamenti non vanno così fatti alla luce del sole alla luce del giorno davanti a un pubblico davanti a chi ti guarda non è non è ammissibile infatti è stato giustamente squalificato però non voglio fare il bacchettone posso capire che lui magari era aveva un nervoso incredibile dentro e magari poteva essere un po' diciamo più sereno però ragazzi non è che siamo robot siamo eh dominati eh come come dei joystick però come come la la playstation a volte possiamo avere queste reazioni però lui è un professionista e quindi pagherà per quello che è successo e la juventus non ha avuto un attimo di esitazione a cacciarlo via anche perché secondo me già lo aveva messo in nei fatti insomma già lo aveva messo al libro no nel libro nero adesso però bisognerà vedere se verrà ehm licenziato per giusta causa e lì magari la juventus si risparmierà i soldi che gli deve ancora dare oppure se verrà verrà esonerato perché eh ancora vanta un un accordo un contratto e quindi dovrà essere pagato ugualmente dalla juventus ma io non sono un commercialista non sono un ragioniere quindi questi discorsi lasciano il tempo che trovano adesso vedremo come andrà avanti la juventus con il nuovo allenatore voglio il tuo commento qua sotto il tuo like e la tua iscrizione ciao da enrico capparelli